Sarà intitolato a Papa Francesco, il nuovo centro parrocchiale a Lucrezia, i cui lavori inizieranno a gennaio 2016. Sarà in grado di accogliere le attività di segreteria della parrocchia, nuovi locali per la Caritas parrocchiale, oltre a numerosi spazi per i giovani, un nuovo oratorio e un salone da 500 posti per convegni e anche una biblioteca. Un progetto che prevede anche la riorganizzazione degli spazi esterni e la collocazione del nuovo edificio maggiormente addossato alla chiesa. Incorpora parametri di bioedilizia e standard costruttivi modernissimi, oltre ad una concezione estetica con un chiaro messaggio. Nuovi spazi, nuove attività, per esempio abbiamo una biblioteca che è situata sul terzo piano, dove c'è questo elemento caratteristico del progetto che è questa sorta di cannocchiale che si affaccia sulla città, sul territorio per una visuale sul mondo. Progetto ex novo quindi che implica anche tecnologie innovative, avete pensato di modernizzare anche il progetto esistente? Sì, abbiamo pensato di fare una sorta di progetto che faccia da riferimento un po' anche per queste innovazioni tecnologiche che riguardano la parte impiantistica, che riguardano anche il discorso della struttura, quindi anche un edificio a risparmio energetico. Siamo partiti con l'idea di recuperare tutti gli edifici del centro parrocchiale. Poi negli anni questo discorso del recupero, della ristrutturazione si è modificato in un nuovo edificio, diciamo pensiamo di demolire gli edifici esistenti e proporre un edificio nuovo con caratteristiche attuali, diciamo dal punto di vista statico e anche energetico. Il progetto per la realizzazione del nuovo centro parrocchiale prevede l'abbattimento del vecchio cinema non più agibile e dell'ex asilo l'attuale GP2. Per arrivare a questo nuovo edificio capace di rispondere alle numerose esigenze della comunità si è passati attraverso un confronto con tutte le realtà parrocchiali esistenti. C'è stato nel corso degli anni una consultazione con tutte le realtà esistenti in parrocchia per vedere quelle che erano le esigenze di spazi che sono necessari per fare appunto vivere la nostra parrocchia. Quindi si è deciso di abbattere questi due edifici che sono oramai obsoleti come l'ex GP2 e l'ex cinema per realizzare una serie di spazi per la catechesi, per centro aggregativo oratorio, salone eccetera, tutta una serie di attività che riusciranno insomma a far vivere la nostra parrocchia. Il nuovo centro parrocchiale Papa Francesco darà non solo un nuovo volto all'area parrocchiale ma sarà un'opportunità unica e importante per tutta la comunità di Lucrezia.